Benvenuti a una nuova puntata di Incapertati Felici e adesso abbiamo a noi la Magic T-Shirt, una maglia che risolverà tutti i vostri problemi. La Magic T-Shirt, l'unico modello, ne abbiamo XL, 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 XL. La Magic T-Shirt, la maglia più economica che c'è, è l'unica che vi trasformerà e vi farà diventare le persone più belle che ci sono. Magic T-Shirt, la maglia numero uno nel suo genere, l'unica che riuscirà a trasformarvi nell'essere più bello che ci sia, riuscirà a farvi crescere i capelli, riuscirà a farvi dimagrire, riuscirà a farvi diventare più altra. Magic T-Shirt, l'unica maglia che sa davvero soddisfarvi e rendervi felici. Ma andiamo a vedere un attimo come si può creare questa cosa così eccezionale e indossarla da una persona. Ecco Claudio, un ragazzo molto grasso, vedete che si sguarda nello specchio, scruta nell'orizzonte qualcosa di bello. E lui, eccolo, questo è il momento in cui si rende conto che la sua flaccida trippa che lo sovrasta è così orrenda che fa schifo. Ma ecco la Magic T-Shirt, una magica maglia che risolverà ogni suo problema. Con la ragazza magica che ora sparirà, ecco qua la Magic T-Shirt. Ed ecco che va a provare la Magic T-Shirt. Vediamo cosa succede, ecco cosa succede quando si cambia la maglia e diventa super macho. Guardate la trippa non c'è più. Con la Magic T-Shirt dove il suo potere è racchiuso nelle mega stampelle di rinforzo che si trovano alle spalle. Quei ragazzi ce lo fa vedere. Guardate la Magic T-Shirt. Guardate la sua pancia non c'è più. Guardate che muscolaccio, guardate la sua snellezza, ma soprattutto i capelli. Guardate quanti capelli che ha. Guardate lì, è incredibile la Magic T-Shirt. La maglia che vi renderà tutti più felici. Vediamo il ragazzo come propone le sue spallacce. Guardatelo mentre cammina. Cammina anche un po' meglio. Guardate, è incredibile. Ha cambiato anche il pantalone. La Magic T-Shirt non è fenomenale. Ma vediamo il prima e il dopo. Guardate la sua flaccidità nell'angolo destro prima dell'utilizzo della Magic T-Shirt. Guardatelo ora invece che muscolo, che posa. Guardate com'è alto. Magic T-Shirt, la maglia di numero uno.